Sono Cosimo Rotolo, un casaro con circa 30 anni di esperienza nel settore caseario. Tra le mie esperienze lavorative all'estero abbiamo America, Sudafrica, dove ho vinto vari premi come miglior fior di latte e miglior burrato. Con Napoli Antica abbiamo puntato sulla qualità, quindi usiamo solo latte locale di qualità. Allora, in Napoli Antica abbiamo due tipologie di prodotti, abbiamo prodotti freschi e prodotti stagionati, semistagionati. Abbiamo una cella di maturazione. L'importanza in questo mestiere è fondamentale la materia prima, il latte. Quindi noi, avendo un latte di alta qualità, riusciamo a fare dei prodotti ottimi. Allora, la vera difficoltà è il latte, la materia prima, perché ogni giorno è un latte diverso. I nostri prodotti Napoli Antica passiamo da prodotti freschi, semistagionati e stagionati. Prodotti freschi parliamo di mozzarella di bufala, burrata, stracciatella, ricotta, fior di latte. Mentre per quanto riguarda i formaggi semistagionati abbiamo cacciotte, caciocavalli, formaggio di bufala e cacciotte di capra. E inoltre abbiamo anche il burro, al tartufo, al rosmarino e aglio. Napoli Antica nasce come progetto su un sistema tradizionale artigianale italiano, con il connubio del latte turco locale. Quindi riusciamo ad avere degli ottimi prodotti. Inoltre abbiamo creato una cella particolare per la maturazione dei formaggi, con un'umidità dell'80-90% circa. Quindi è un ambiente ideale per la maturazione di questa tipologia di formaggi che effettuiamo in Napoli Antica. Abbiamo deciso di collaborare con Tase Direb, perché riteniamo che abbia una clientela predisposta per questa tipologia di prodotti artigianali. Grazie a tutti!